fondamentale in questa storia d'amore è stato il serafico padre san francesco il quale mi ha iniziato all'amore egli era entrato nella mia vita per convalidare ciò che già l'anima aveva iniziato a vivere ovvero l'immenso giovamento che essa ha quando ama gesù crocifisso per amore attraverso maria il mio cuore si infiammò da subito di un amore tutto serafico per gesù crocifisso divenne per me una santa ossessione e mi ritrovai ad amarlo attraverso il cuore immacolato di maria sua e nostra tenera madre la gioia mi esplode nell'anima perché per questo cuore era la cosa più naturale di questo mondo e più amavo il crocifisso e più amavo la madre ai pieti della croce più mi stringevo a lei che stava sotto la croce e più ardevo d'amore per gesù crocifisso san francesco inoltre ha fatto sì che mi accorgessi della presenza di un uomo nella mia vita il quale l'avrebbe per sempre cambiata grazie a tutti Grazie a tutti.